Un saluto ai campani tutti, ci trova Vercelli e questo è il Duomo di Sant'Usebio, abbiamo 5 campane e siamo in compagnia con Campanaro Vercelli 03, saluta! Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo Vercelli, siamo in compagnia del nostro grande amico campanaro visitatore Eh sì! E adesso ascolteremo la distrazione della campana quarta, seconda chiamata dalla prima, la piccola, alla grande e la terza la quarta, scusate chiamata invece dalla campana maggiore alla prima e la seconda e per l'ancio di mezzogiorno A presto, da campanaro esatore e da Campanaro Vercelli 03 Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.